oggi quindi prepareremo insieme dei golosissimi e buonissimi brownies al cacao ottimi per la colazione e la merenda guardiamo insieme gli ingredienti che ci serviranno per preparare i nostri brownies al cacao ci serviranno 150 g di farina 150 g di burro 150 g di zucchero di canna 70 g di cacao amaro prima cosa andiamo a far sciogliere il burro su fuoco senza portarlo ad ebollizione mentre il nostro burro scioglie andiamo a tagliare il cioccolato in piccoli pezzettini in una grande ciotola andiamo ad unire le uova e lo zucchero di canna che andremo poi a sbattere per bene ora non ci resta che unire tutti gli elementi solidi quindi la farina, il lievito e il cacao una volta ottenuto un impasto piuttosto denso ma senza lavorarlo troppo andiamo ad unire il cioccolato ridotto a scagliette mescoliamo ancora un poco con l'utilizzo di una spatola poi andiamo ad accendere il forno a 190 gradi ricopriamo con carta da forno una teglia quadrata di circa 20x20 e andiamo a versarci l'impasto una volta distribuito uniformemente tutto l'impasto sulla nostra teglia siamo pronti per andare ad infornare a 190 gradi per circa 20-25 minuti ed ecco pronti i nostri brownies per essere tagliati grazie 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 grazie